Ciao a tutti, oggi prepareremo le verdure miste al vapore con vinagrette. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Ingredienti sono acqua calda, sale, zucchine, carote, zucca, peperone, finocchio e per la vinagrette aceto balsamico, olio, sale e pepe. Andiamo il via alla ricetta. Abbiamo tagliato a listarelle tutte le verdure e messe nel varoma e nel vassoio del varoma. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, un cucchiaino di sale, chiudere con il coperchio senza il misurino, posizionare il varoma, chiudere con il coperchio, e lo facciamo cuocere per 25 minuti. Temperatura varoma, velocità 2. Le verdure sono cotte, trasferire in un piatto da portata e svuotare il boccale. Senza lavare il boccale, mettere l'olio, l'aceto balsamico, il sale e il pepe. Ed azionare il bimbi per 20 secondi, a velocità 4. La vinagretta è pronta a trasferire in una salsiera. Condiamo le verdure. verdure miste al vapore con vinagrette. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!